Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, ancora un incidente mortale nell'Aretino è avvenuto in località Tavernelle di Anghiari, dunque in Valtiberina, coinvolto un solo mezzo, un'auto che si è schiantata per cause in corso di accertamento contro un albero. Nel violento impatto ha perso la vita una donna di 90 anni, un'altra donna di 64 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Sansepolcro, un uomo di 70, trasportato anch'esso in codice giallo all'ospedale Fiorentino di Careggi sul posto, un'ambulanza della misericordia di Anghiari, una infermierizzata di Sansepolcro, l'eli soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. E il drammatico incidente che ha toccato la provincia di Arezzo, che ha visto la scomparsa della giovane Kesia, è una tragedia appunto che ha scosso l'intera vallata casentinese, adesso ha preso il via una raccolta fondi per sostenere proprio la famiglia della giovane. Era una ragazza che amava lo studio e la natura, tanti la ricorderanno anche per la sua leggerezza nella danza aerea, come una fatina che vola in mezzo ai fiori, lei si muoveva sui tessuti. Questo è il ricordo di Kesia, la ragazza di 15 anni che ha perso la vita nella terribile carambola fatale in A1 lo scorso 22 giugno, una notizia che ha straziato l'intera comunità casentinese che si è subito stretta attorno ai genitori Lara e Cosè. Un sostegno adesso anche economico per aiutarli ad affrontare questo momento, dal funerale alle spese burocratiche legali e sino a quelle mediche. Così è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. La ragazza nei prossimi giorni sarà cremata, le sue ceneri poi torneranno con i genitori in Valle Santa, dove i cittadini stanno organizzando un momento di raccoglimento nella piazzetta del paese per ricordarla e salutarla un'ultima volta. A Correzzo intanto c'è già un albero al quale è stato appeso il suo nome e presto l'intero giardino della scuola dove aveva fatto le elementari sarà lei intitolato. Le amiche della danza invece la scorsa domenica mattina hanno lanciato al cielo dei palloncini bianchi e l'icio di Poppi che la giovane frequentava infine intende promuovere una borsa di studio legata al suo nome. Un altro incidente stradale è avvenuto intorno alle 15 di oggi lungo il tratto retino dell'autosole all'uscita valdichiana in direzione nord. Un'auto è rimasta coinvolta, due i feriti, un minore trasportato in codice giallo ad Arezzo e un uomo di 44 anni trasportato anch'esso in codice giallo all'ospedale di Arezzo sul posto. Un'ambulanza proveniente da Sinalunga, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Parliamo di protezione civile perché domani alle 12 tutti gli smartphone agganciati a cellule telefoniche toscane riceveranno in contemporanea un messaggio. Si tratta del sistema appunto di protezione civile, la prima prova è proprio in regione toscana e si chiama IT Alert. Noi ne abbiamo parlato con il prefetto di Arezzo. Questo è un messaggio IT Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Mercoledì 28 giugno tutti gli smartphone agganciati alle celle telefoniche toscane riceveranno alle 12. Contemporaneamente un messaggio. Si tratta del primo test di IT Alert per le comunicazioni di emergenza. Comincia la sperimentazione per la Toscana per cui tutti coloro si trovano sul territorio toscano e quindi ad Arezzo e riceveranno sul cellulare un messaggio. È un messaggio che viene preceduto da un suono, un suono inequivocabile perché è diverso da tutti gli altri suoni di notifica e conterrà un messaggio di testo che per domani indicherà un'esercitazione. Ma quando andrà al regime l'IT Alert è un sistema per poter raggiungere immediatamente la popolazione in tempo reale e comunicare o delle catastrofi imminenti o delle emergenze in corso oppure dare la notizia su emergenze che possano arrivare. È un sistema molto efficace perché consente di raggiungere immediatamente la popolazione in maniera molto rapida direttamente sul cellulare. Quello che viene richiesto è che il cellulare sia acceso e collegato a una rete telefonica qualunque essa sia. Ora il governo italiano attraverso la protezione civile sta testando IT Alert. Quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. IT Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Due cose da sapere. Una è che appunto arriverà questo suono e quindi di non spaventarsi perché chiaramente è un'esercitazione ed è un suono molto penetrante. Due, una volta aperto il messaggio bisognerà collegarsi con il sito dell'IT Alert dove si potranno dare anche eventualmente dei suggerimenti su come migliorare il servizio. In ogni caso collegandosi servirà poi da check che indica la ricezione corretta del messaggio. Siamo alla cronaca giudiziaria. Il figlio sedicenne di Sara Ruschi, la donna uccisa dal marito assieme alla madre, nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorso, ha ripercorso quei momenti terribili in un'aula protetta del Tribunale di Arezzo, affiancato da una psicologa rispondendo alle domande del GIP Giulia Soldini e della PM Marco Dioni. I momenti di crisi dei mesi prima del delitto, la scoperta della morte della madre e della nonna, la richiesta di aiuto è inviata al 112, tutto è stato appunto ripercorso nell'incidente probatorio. La testimonianza del giovane adesso avrà valore di prova e sarà così negli atti del procedimento per il duplice omicidio che vede il padre imputato. L'uomo peraltro era presente ma in un'altra stanza del Tribunale. Adesso il PM potrebbe chiedere il giudizio diretto saltando direttamente al procedimento in corte d'assise ed evitando le fasi dell'udienza preliminare. La richiesta potrà essere presentata entro settembre. Un furto all'interno di un bar tabacchi di Arezzo è accaduto nella tarda mattinata di oggi. Una persona, un uomo, si è introdotto all'interno dell'esercizio commerciale. C'era in quel momento una dipendente chiedendo un intero pacchetto di gratta e vinci per un valore di circa 300 euro. Poi facendo finta di avvicinare il bancomat per il pagamento ha afferrato i tagliandi ed è scappato fuori. Ad attenderlo ci sarebbe stato un palo pronto in auto con il motore acceso per consentire la fuga che poi è effettivamente riuscita. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine e non sarebbe il primo accaduto appunto nell'aretino. Parliamo adesso invece di sanità, ambulanze a rischio. I presidenti delle zone sociosanitarie della provincia di Arezzo scrivono una lettera al presidente della regione toscana, Eugenio Gianni. Alla fine tanto tono che piove, nel senso che sono 11 mesi che come zone cerchiamo di avere un'interlocuzione con l'assessore Bezzini per capire a questo punto se anche si è fatto una minima idea sulle modalità di risoluzione di alcune problematiche molto annose, molto complicate che riguardano il sistema di emergenza e urgenza e il trasporto sociale e nel frattempo il problema è obiettivamente esploso. Hanno così preso carta e penna e hanno scritto una lettera al presidente della regione Eugenio Gianni. In calce quattro firme, quella di Lucia Tanti, presidente della zona sociosanitaria retina, Fabrizio Innocenti, presidente invece della zona valtiberina, Luciano Meoni di quella della Valdichiana e Filippo Vagnoli, presidente della zona sociosanitaria casentinese e da poco vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'Asla Toscana Sud-Est. Riteniamo debbano essere fatte due cose per cominciare. La prima è ristabilire la parte dedicata ai rimborsi che sono per il chilometraggio, che sono attardati perché mi pare che risalgono al 2011. La seconda cosa che chiediamo, da un punto di vista numerico anche definita, è un passaggio di rimborso da 110.000 euro circa annui per quanto riguarda una PET che sarebbe una sorta di ambulanza equipaggiata H24, ha uno step di 23.000 euro all'anno nel 2025 con un passaggio nel 2023 immediato di 240.000 euro anni. Sono due richieste che riteniamo essere il minimo sindacale per rimettere in moto la macchina e soprattutto non lasciare nessuno a piedi in situazioni di emergenza. Dopodiché chiediamo insieme, compartecipando anche noi, di capire che fine fa il trasporto sociale, come possiamo collaborare per renderlo più efficace, per non lasciare anche qui sacche di bisogno al palo perché come un malato oncologico, come un malato dializzato, come un qualsiasi malato raggiunge cure fondamentali in malattie croniche, fa parte della civiltà con cui uno si pone di fronte alle persone. Ancora in tema di sanità, anche Arezzo avrà il suo fast track ortopedico. La nuova struttura organizzata entrerà in funzione a partire proprio da questo sabato 1 luglio ed è destinata a ridurre i tempi di attesa del paziente che arriva in pronto soccorso con un trauma a bassa o media complessità. Sarà l'infermiere del triage di inviare il paziente direttamente allo specialista ortopedico che sarà affiancato da un infermiere specializzato. Questa nuova struttura organizzativa è in linea con le recenti disposizioni regionali che hanno l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei pronto soccorso e offrire al paziente traumatizzato una prestazione specialistica maggiormente qualificata. Ancora polemiche sul maxiconcorso bandito da Estar per gli infermieri che la scorsa settimana si è tenuto all'Arezzo, Fiere e Congressi. Si erano presentati in quasi 4.000 al centro affari e convegni di Arezzo avevano atteso per ore sotto il sole cocente di inizio estate adesso oltre la metà sono stati bocciati. Questo l'esito del maxiconcorso per le professioni infermieristiche che accende nuovamente la polemica. Già subito dopo la prova erano emerse le prime contestazioni sulle domande e sulle condizioni affrontate dai candidati che in alcuni casi avrebbero richiesto l'intervento del 118. A prendere posizione è nuovamente l'ordine delle professioni infermieristiche della Toscana. Con l'attuale carenza di infermieri e viste le condizioni difficili e le tante domande controverse, riteniamo un grave errore aver bocciato il 61,7% dei candidati, ha dichiarato il vicepresidente David Nucci. I dati raccolti in questo giorno confermano e anzi aggravano la prima impressione e prosegue sia sulle domande che sul fatto che la prova della mattina fosse più attinente di quella pomeridiana. I risultati delle emissioni ci creano poi ulteriori perplessità. I non ammessi alla prova pratica sono stati il 52,8%, all'orale l'8,9%, il totale delle spinti dunque supera il 61%. Davvero un peccato e un errore sprecare un'occasione così importante conclude per selezionare infermieri, scartando tanti professionisti in base ai criteri poco pertinenti e discutibili. Era stato infine lo stesso Nucci ad annunciare che a seguito delle numerose segnalazioni avrebbe provveduto ad inviare una richiesta ad Estar tramite PEC per richiedere di vedere prove di concorso e poter così effettuare le verifiche del caso, una richiesta che comprende sia i questionari relativi alla prova scritta che pratica. Il Principato di Monaco ha firmato la campagna Leaders for Peace lanciata da Rondine, cittadella della pace, la firma nella sede del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale del Principato alla presenza del Ministro per gli Affari Esteri e del Presidente e fondatore di Rondine, Franco Vaccari. Con la firma il Principato di Monaco consolida l'alleanza con Rondine impegnandosi a diffondere il metodo Rondine sulla trasformazione creativa dei conflitti in particolare nei sistemi di istruzione nazionali. Era il 29 giugno del 1990 quando furono chiusi i manicomi ad Arezzo, al Parco del Pionta, a 33 anni appunto da questa importante data, una serie di eventi proprio per non dimenticare. Una data che Arezzo non scorderà e non lo scorderà il Centro Franco Basaglia perché con una grande festa il 29 giugno del 1990 fu decretata la chiusura del manicomio che era un luogo di segregazione e violenza. Il 29 giugno del 1990 la chiusura dei manicomi nella stessa data, a 33 anni di distanza, una giornata ricca di eventi al Parco del Colle del Pionta. La ricordiamo ma vogliamo anche che sia un momento di festa non solo per questo ma anche per dare il segno concreto di una nuova vita che il Pionta deve avere con le sue potenzialità, ovviamente le attività sanitarie che soprattutto qui sono presenti, ma la ricerca e la formazione universitaria. Ma quello che più è da valorizzare oggi è anche lo spazio per la cultura, per il tempo libero, per le attività sportive, cioè un luogo di vita, di aggregazione, una risorsa per la città. Nel corso degli anni però troppo spesso è diventato il luogo di degrado così da quasi un decennio si è costituito il Comitato Pionta composto da tante associazioni unite con un obiettivo comune restituire il parco all'intera città. La giornata è significativa perché vuol significare per noi non solo il ricordo della chiusura del manicomio ma se è possibile un'apertura nuova alla città. Il 29 giugno una giornata di festa ma anche una giornata per far conoscere ciò che possono fare le diverse abilità. E quindi avremo tanti laboratori del Dipartimento di Salute Mentale ma anche di cooperative private del terzo settore e associazioni di volontariato in cui i veri protagonisti sono frequentatori dei laboratori stessi che a livello artigianale e anche agricolo dimostreranno i loro prodotti. Le diverse abilità sono una ricchezza, basta saperle valorizzare. E siamo alla pagina degli spettacoli. È iniziato il conto alla rovescia per il Mango Music Fest, il Festival Pop, Rock, Folk, Elettronico che farà vivere un viaggio appunto tra i generi con i grandi nomi della musica nel cuore verde del centro storico aretino ovvero il Parco del Prato. Il Mango Music Fest torna dal 4 al 9 luglio e non sarà soltanto il palcoscenico dei grandi della musica ma ci sarà spazio anche per la cultura, per i talk, per il cinema e per la partecipazione in una festa davvero che sarà di tutta la città dove ci sarà spazio anche per le nuove band e per gli artisti emergenti. Ha toccato anche Arezzo questo fine settimana il Festival dei Lettori. I protagonisti della seconda giornata sono stati i finalisti del Premio Strega 2023. Sono stati i finalisti del Premio Strega 2023 i protagonisti della seconda giornata di Arezzo dei Lettori, la prima tappa in territorio aretino della città dei lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano. La Fortezza Medicea ha così ospitato i cinque autori in Lizza per il prestigioso riconoscimento letterario Rossella Postorino, Adad Adamo per Interposta Persona, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri. Tutti sanno oramai che la città dei lettori è un progetto che si espande in tutta la regione toscana. Arezzo è una delle tappe più importanti, quindi Arezzo dei Lettori quest'anno ha ospitato, in questi giorni, degli appuntamenti che hanno lasciato il segno in quelli che sono i lettori della città. Chiuderemo con la cinquina del Premio Strega, quest'anno particolarmente importante, e prima del Premio Strega un alexio del professor Carlo Gisburg, Piero della Francesca, è il suo oggetto di studio, qui lo avete presente, qui avete presente, insomma, è un po' il baluardo anche della città di Arezzo. Un intervento, quello di Carlo Gisburg, rivolto a tutti gli amanti della pittura del grande artista aretino Piero della Francesca per rileggerne l'opera sotto una luce inattesa a partire dal saggio Indagini su Piero, riedito da Delphi a 40 anni dalla prima pubblicazione. Io sono portato a dire che quando siamo di fronte alla flagellazione abbiamo l'impulso di dire ecco il quadro più bello del mondo e poi se andiamo a Sansepolcro diciamo la stessa cosa per quanto riguarda la risurrezione. Ora queste affermazioni apparentemente si contraddicono, ma in realtà c'è qualcosa sotto che spiega questa sequenza e cioè quadri diciamo straordinari come questi come dire annullano tutti gli altri. È come se fosse un mondo in cui si entra e non c'è niente al di fuori e quindi è il quadro più bello del mondo perché è l'unico. Una notizia dell'ultima ora prima della pagina sportiva. Il Tribunale di Milano avrebbe concesso altri 60 giorni a FIMER proprio per la presentazione, ve l'abbiamo raccontata negli scorsi telegiornali, di questo nuovo piano concordatario proprio da parte appunto del CDA. Tutto dunque sarebbe rimandato alla fine di agosto. Ovviamente torneremo su questa importante vicenda e questa vertenza che ormai dura da circa un anno e mezzo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso siamo appunto alla pagina sportiva, parliamo di calcio mercato, un acquisto praticamente fatto per l'Arezzo e un altro che potrebbe chiudersi positivamente nelle prossime ore. Il direttore Paolo Giovannini e il direttore sportivo Nello Cutolo avevano annunciato venerdì scorso in conferenza stampa che per un terzino destro Ander e un centrocampista over le cose appunto si stavano mettendo per il verso giusto. E infatti verrà ufficializzato nei primi giorni di luglio il testeramento di Alberto Montini classe 2001, difensore poliedrico che in carriera ha giocato sugli esterni bassi e anche da centrale ad ore salvo imprevisti. Verrà definito anche l'affare che riguarda Saka Mauli classe 1998, un play ganese in forza al Sud Tirol. A Giovannini e Cutolo però Maui appunto piacerebbe molto e quindi vedremo insomma se questo acquisto sarà perfezionato. Intanto come vi abbiamo già raccontato nelle scorse edizioni è partita anche la campagna abbonamenti a Maranto, la di Selvaggio e Settembrini allo store proprio per il primo giorno appunto di partenza della sottoscrizione. E allora vediamo il servizio. Sì, veramente è bello vedere già che le quattro il primo giorno disponibile c'è già un po' di gente così e fa capire l'entusiasmo che c'è in città. L'ho visto in questo mese che sono stato qua, ecco diciamo durante la giostra, durante insomma tutto l'affetto che viene ripagato. Io ho avuto la fortuna di rimanere qua, però l'affetto che c'è per i tifosi per il verso della squadra è veramente tanto, quindi non vediamo, ho sentito anche già gli altri ragazzi, non vedo tutti l'ora di ripartire, quindi siamo carichi dai. Hai consegnato anche il primo volume che celebra la vittoria di questo campionato, non so se ho avuto modo di vedere qualche scatto, se ti è tornato in mente qualche partita più significativa delle altre. L'ho sfogliato in questo momento, ma ho già sentito Fabio, Luca e Niccolò, che abbiamo il gruppo, che mi hanno chiesto di prenderlo anche per loro, quindi questo fa capire l'entusiasmo che c'è anche a parte nostra e comunque lo prenderò anch'io e quindi con calma le sfoglierò tutte. Meno di tre settimane al via, che atmosfera si respira dentro di te, dentro anche quella che hai lasciato, insomma, dei tuoi compagni? Eh, quella di, come ho detto prima, l'entusiasmo che abbiamo, l'entusiasmo di ripartire, perché comunque quando finisce un campionato così, con un gruppo del genere, è ovvio che siamo tutti più che entusiasti di ripartire e la voglia è già, scapitiamo insomma dalla voglia di ripartire. C'è entusiasmo, sì, ce l'aspettavamo e la, come dire, la facilità e le sensazioni erano positive, erano palpabili in questi giorni, per cui mi aspettavo e ci aspettavamo un'affluenza del genere. L'obiettivo io l'ho lanciato, quindi mi aspetto un numero importante, degli abbonati importanti, ma soprattutto mi aspetto che ci sia uno stadio tutto colorato di Amalanto. Tra l'altro è stato abbinato anche il volume che celebra il ritorno in Degapro dell'Arezzo, che effetto le ha fatto di vedere quelle immagini? Qui devo ringraziare in primis Atlantide per la creazione del volume e soprattutto quando me l'hanno proposto c'è stato subito un sì senza tentennamenti. Rivedere quel libro significa rivedere il coraggio che si è avuto quest'anno con l'esito finale. Un'ultima cosa, saperti la settimana campagna abbonamenti con il bagno di folla qui allo store che poi proseguirà e poi insomma a questo fine settimana si apre la festa di Orgoglio Amalanto con la dirigenza di Arezzo che sarà protagonista. Nei prossimi giorni con Orgoglio Amalanto faremo una serata, una scena insieme dove illustreremo quelli che sono i programmi sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista progettuale. E siamo all'Atletica, medaglia d'argento tricolore, prestazione minima per i campionati europei Under 20 e nuovo, record regionale. Questo triplice risultato è stato raggiunto da Nicolas Gavagni dell'Alga Atletica Arezzo ai campionati italiani individuali su pista allievi che nella Veneta Caorle è riuscito a confermarsi tra le maggiori promesse appunto nazionali del salto in lungo. Nato nel 2006, l'Arettino è stato protagonista di una prova di altissimo livello che ha trovato il proprio cuore appunto nel salto di 7.40 metri che è valso proprio la grande gioia del secondo gradino del podio. Ed infine chiudiamo parlando del giro delle valli aretine, una delle classiche del ciclismo del nostro territorio e non solo, una classica proprio a livello anche nazionale per Elite e Under. Domenica prossima con partenza da Rigutino e arrivo al Parco di Lignano è appunto in programma la 62esima edizione valida anche come trofeo Rosini Impianti organizzata proprio dalla SC Rigutinese guidata da Piero Rosini. La gara viene ideata proprio nel 1958 da Corrado Livi. L'edizione 2023 scatterà alle 13.30 proprio da Rigutino e si chiuderà in salita al Parco di Lignano verso le 17.30 al culmine dei 166 chilometri. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.